Dopo il successo in terra danese la squadra di Mondonico ha badato soprattutto ad amministrare il risultato dell'andata 2 a 0. Questo atteggiamento non ha accontentato parte del pubblico che ha fischiato la squadra di Mondonico. Il Torino non ha corso pericoli tuttavia ed è andato a rete grazie a un autogol di Nilsen propiziato da Casagrande. Mentre rivediamo la rete da altra angolazione ecco l'intervista di Beppe Barletti al capitano Granata Cravero. Beh era una partita che già dall'inizio sapevamo che non era poi così difficile anche se prima in certe dichiarazioni bisogna sempre cercare di tenere una certa tensione. In più finiamo il primo tempo 1 a 0 per noi il secondo tempo è stata così una partita in scioltezza senza rischiare di ammonirci o di prendere qualche munizione e senza rischiare di farci male. Ci siamo riusciti nel nostro intento.